Con l'Ormin Rescue è facile giungere al cuore di un problema rapidamente. Dalla console tecnici di Rescue puoi impostare una visuale completa del sistema e puoi indagare a fondo per una diagnosi più dettagliata. Quando vuoi visualizzare un problema alla nascita, puoi ottenere accesso immediato al computer o lo smartphone del cliente con la funzionalità di accesso remoto di Rescue. Con la funzione automatica di distribuzione degli script di Rescue puoi affrontare richieste di supporto con un click. Per esempio con questo semplice script possiamo scoprire se il dispositivo trarà vantaggio da una defraimentazione del disco e se hai bisogno di installare una nuova versione del software o mostrare del materiale risultativo di un cliente puoi facilmente trasferire file e cartelle ad un dispositivo remoto. Con Rescue è facile accedere, risolvere un problema e rendere i tuoi clienti nuovamente operativi. Grazie a tutti.